Blizz antidroga dei carabinieri a Gela. Sono 13 i provvedimenti restrittivi che riguardano un giro di spaccio nella città del Golfo. I carabinieri del reparto territoriale, coordinati dai PM della Procura, hanno arrestato altrettante persone e individuato un vasto giro di spaccio. Nel corso delle indagini, che abbracciano un periodo di almeno sei mesi e toccano fatti commessi due anni fa, sono stati ricostruiti inoltre una rapina a mano armata all'interno del bar della stazione ferroviaria e un tentativo di furto in un'abitazione ad Albani, Roccella. Sono almeno 200 gli episodi di spaccio ricostruiti. Cocaina, hashish e marijuana venivano piazzate nelle zone della stazione. Gli indagati sono stati monitorati anche attraverso sistemi video. Nammambarara a sparare, dicevano due degli indagati intercettati dai carabinieri. I sticosi o si in carcere o si murto, spiegavano probabilmente riferendosi a possibili colpi da mettere a segno. Le misure sono state eseguite nella notte, sempre dai militari dell'arma, che hanno sequestrato anche un grosso quantitativo di droga. Grazie per aver cercato una quando ci si prende.